C'è una famiglia che ha tre figli, tre gioielli, che in questa famiglia è molto unita, è unita da una passione incredibile che è la danza sportiva. Il terzo gioiello, il terzo figlio, il più piccolo, valla da tanto tempo, in questo momento valla di aiuto, 16 e 18, passi a S, 10 parti, pensate, danza strada e la fine. Pluri campioni italiani dal 2008 al 2013 nelle varie categorie classi rappresentano l'Italia, all'estero, terzi al campionato europeo a Capris in Spagna, primi negli stada, secondi al campionato europeo latine nei dieci valli, quarti al campionato del mondo nelle danze stada, e sto parlando di Francesca Pino, Paglieri e Vincenzo Canese. Paglieri E varsultati Quella опросa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.